C'è di nuovo in giro per la città l'auto della protezione civile negli ultimi giorni che con il megafono dal mezzo ribadisce l'obbligo dell'uso della mascherina di evitare assembramenti e di mantenere comportamenti corretti per limitare la diffusione del contagio del coronavirus e non sarà un caso che ciò avvenga in città proprio in questi giorni quando seppur in sordina si registrano nuovi casi di persone risultate positive ai tamponi il virus non è andato in ferie i numeri seppur ridotti di persone contagiate lo dimostrano l'ultimo contagio a salerno in ordine di tempo di cui si è venuti a conoscenza dopo il caso dei medici del 118 di via vernieri e dell'asla di pastena è una dipendente bancaria di un istituto bancario del quartiere carmine di salerno lievi sintomi che hanno reso necessario alla donna di essere sottoposta al tampone che ha poi dato esito positivo seppur non ci sono persone ricoverate né all'ospedale ruggi né all'ospedale da procida mentre si ricostruisce la catena dei contatti della bancaria sarà pure un caso ma sia in via prudente che in via paolo de granita indiscrezioni attribuirebbero la chiusura temporanea di due attività commerciali per la sanificazione dovuta a possibili contagi